Forza! Mostrami i risultati del tuo duro allenamento. Sai fare un esorcismo? Eh? Penso di sì! Però, se hai bisogno di un vero esorcismo, dovresti chiedere a... Uno spirito malvagio sei possessato dalla mia mano destra! Sbrigati a fare l'esorcismo, prima che prenda il controllo del mio intero corpo! Guarda che l'altra volta ti aveva preso la sinistra! Lo spirito malvagio si è preso questa oggi, ok? Urushibara Ruka. Con la sua dolce voce e le sue maniere femminili. Molto più delicate ed aggraziate di tante donne. Però è un maschio. Supera maiuri in altezza. Ma allo stesso tempo è così fine. Però è un maschio. Sta benissimo nel suo completo d'amico. Però è un maschio. È già il tramonto. Eppure fa ancora molto caldo. Le cicale stanno ancora cantando. Però... È un maschio. Bye bye! Ciao! 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 Grazie a tutti.